Eccoci a Napoli. Tiro di Musella e poi su palanca respinge ancora Goletti. Ecco l'azione del gol e del rigore. Fallo di lungo buco su Musella. Batte il calcio di rigore Guidetti e il Napoli è 1-0. Dalla parte opposta Osellame. Splendido l'intervento di Castellini. Ancora un tiro di Marchetti e un'altra bella parata di Castellini. Poi va via Pellegrini anticipato da Goletti. Ancora i due a confronto. Palanca, passaggio a Pellegrini e ancora una volta il portiere para sul centroavanti napoletano. Nel finale lanciato bene Kroll. Entra in area. Su di lui entra Lamagni. È dubbio questo intervento. Vale la pena di rivederlo a rallentatore. Vedete Kroll? Tunnel nei confronti del difensore che gli dà un'ancata e lo mette giù. Rigore? Forse sì, forse no. Ancora un'azione del Napoli e Damiani è entrato nel secondo tempo e sul suo cross non giunge in tempo Pellegrini. Il Napoli vince per 1 a 0.